Pronto? Ciao, sono io? È un bene che ho trovato qualcuno che mi ascolti perché vedi, sto proprio in un momentaggio, sto in un momento di crisi, capisci? Sto proprio per le pezze, sto alla frutta, sto a terra, cioè raso terra, sottoterra, capisci? Perché... Ah, alla ferramenta Stortoni. Stregati dalla Bruna, il film di Henry Secchiaroli con i comici del San Costanzo Show, debutterà nelle sale cinematografiche di Fano il 31 ottobre prossimo. Ma oltre che nelle sale, questo film rappresenta un debutto per motivi diversi, sia per gli attori che per il regista. Henry Secchiaroli, perché dopo due produzioni in dialetto fanese, si concede ad un testo in lingua italiana, ma al 90%, poiché il 10% del film è recitato in vernacolo marchigiano, in quanto sono stati presi attori che provengono da diverse zone delle Marche, che portando con loro accenti e inflessioni locali, ci faranno fare un bel tour regionale. È un film al 90% in italiano, c'è questo 10% di dialetto, come dire, marchigiano, perché c'è un po' l'inflessione del dialetto civiltavanovese, pesarese, l'interno della provincia, e quindi ci sono vari dialetti che si mescolano quest'anno. Però principalmente è un film in italiano. Un'avventura carina, ci siamo divertiti tantissimo. Il debutto per i ragazzacci del San Costanzo Show è quello per la pellicola, in quanto con questa produzione cinematografica sono passati dalle polverose tavole dei teatri locali al grande schermo, con tutta la loro travolgente comicità. Si scoprirà all'Arcano? Eh certo, solamente dal 31 ottobre in tutti i cinema del mondo. Sì, sì, come diceva prima Dani, siamo roccamboleschi. Guarda, mi è piaciuto, adesso lo diciamo sempre. No, no, è stato una bella mix di peripezie, acrobazie cinematografiche che vedrete al cinema, insomma. Io sono Romina Antonelli, vengo da Ancona e faccio la Bruna, anzi, precisamente da Osimo, visto che il film è capillarmente marchigiano. Si mischieranno le acque? Eh, si mischieranno, a voglia, si mischieranno. Speriamo che non si rompano le acque, se no, Baccello, è vero il sindaco? E' il corrispondale adiato, bene. Auguri allora. Grazie. Auguri, auguri, grazie. Tiero, ciao, senti, sto ancora a casa. Senti, c'è una pazza che ti ha piombata qui, non se ne va. Aiuto!